Ben ritrovati ragazzi nel mio canale dedicato al mondo dei guadagni online con situazioni gratuite Sunshine Money, canale appunto dedicato agli amanti e agli appassionati, ai curiosi del mondo dei guadagni online con situazioni assolutamente gratuite e perché no a chi non ne conosce le potenzialità vuole imparare qualcosa e vuole saperne di più quindi ragazzi io vi invito a iscrivervi e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui contenuti che di volta in volta andrò ad aggiungere al canale come sempre in apertura apro una piccola parentesi io ho anche un secondo canale Sunshine Records Home Recording per gli amanti della musica per quanti amano, sono appassionati, sono curiosi o vogliono imparare, stanno imparando a produrre musica magari sono le prime armi, stanno ovvendo i primi passi o perché no sono già avviati vogliono affinare le proprie tecniche o impararne di nuove qui potete trovare un sacco di video, un sacco di tutorial riguardanti appunto il mondo della produzione musicale anche qui se siete curiosi, se siete appassionati, se siete interessati potete iscrivervi e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati anche sui contenuti che andrò ad aggiungere in questo canale quindi ragazzi, Sunshine Records Home Recording per la produzione musicale e Sunshine Money per quanto riguarda i guadagni online in modalità assolutamente gratuita ripeto, non andrò a trattare siti o situazioni ad investimento in questo canale ma tornando a noi, di cosa voglio parlarvi oggi? oggi volevo andarvi a presentare praticamente quella che è un'estensione che va a legarsi al nostro browser di Chrome quindi per gli utenti di Chrome sto parlando di Bitter.io Bitter.io appunto è un'estensione che una volta scaricata non dà assolutamente fastidio non crea problemi va a legarsi al nostro browser Chrome e una volta installato la potete vedere qui in alto a destra dove io adesso ho il numerino 19 questa estensione praticamente una volta scaricata e installata ripeto, va a legarsi al nostro browser Chrome quindi per gli utenti di Chrome ma come si fa a guadagnare con questa estensione? è molto molto semplice una volta scaricata dal link che vi lascerò in descrizione o come sempre vi lascio tutti i link necessari in descrizione appunto la scaricheremo la installeremo andrà a legarsi al nostro browser ripeto, non crea assolutamente problemi assolutamente fastidio una volta scaricata e installata dovremo praticamente come dire andare a iscriverci così da crearci il nostro account per iscriverci molto semplicemente ci basterà o inserire una nostra mail oppure il nostro indirizzo bitcoin perché questa estensione ci dà la possibilità di guadagnare, di accumulare bitcoin o meglio centesimi di bitcoin quindi satoshi io mi sono iscritto molto semplicemente tramite la mia mail inserendo qui la mia mail e cliccando sul tasto ottenere bitcoin quindi vi arriverà un codice vi arriverà un pin sulla vostra mail che vi servirà per entrare nel vostro account molto molto semplice una volta fatto ciò praticamente giornalmente l'estensione in modo automatico ci proporrà dei link da cliccare quindi questa estensione è una sorta di faucet ptc come potete vedere in questo momento l'estensione mi sta comunicando che ho in questo momento 19 link da cliccare quindi io premerò sull'icona e come potete vedere questi sono tutti i link che in questo momento l'estensione mi propone di cliccare per ogni link che andrò a cliccare avrò diritto a una piccola quantità di satoshi ad esempio in questo caso cosa mi dice l'estensione che se cliccassi su questo link per un tempo di attesa di 10 secondi avrò diritto a 8 satoshi questo per tutti i link ok vado a cliccare su un link ad esempio questo non dovrò fare assolutamente nulla come potete vedere si aprirà una pagina io non dovrò chiuderla partirà qui il conto alla rovescia devo attendere che il conto alla rovescia finisca mi verrà fuori la scritta ok una volta fatto ciò ricliccherò sull'icona mi verrà chiesto di risolvere un captcha stando attento alle maiuscole e minuscole quindi andiamo a risolvere il captcha cliccherò sul tasto claim e come potete vedere mi sono stati accreditati gli 8 satoshi che andranno ad accumularsi qui in alto nel mio balance totale e potrò ripetere l'operazione per tutti i link che mi vengono proposti durante la giornata torno indietro e posso proseguire ne vado ad aprire un altro come potete vedere si aprirà un sito una pubblicità che non dovrò assolutamente chiudere devo semplicemente attendere che mi finisca il conto alla rovescia una volta finito il conto alla rovescia mi verrà fuori la scritta ok premo sull'icona mi verrà chiesto di risolvere il capcia premerò su claim e come potete vedere i satoshi mi vengono accreditati tranquillamente nel mio balance una volta accreditati i satoshi possiamo andarli a ritirare ovviamente dovremo raggiungere una soglia minima per poter andare a ritirare per andare a ritirare ci basterà andare nel nostro account quindi tornare sul sito ed entrare nel nostro account inserendo la nostra mail io in questo caso vado ad inserire la mia mail clicco come dice il sito praticamente adesso mi ha inviato un codice che mi serve appunto per entrare quello che vi dicevo prima questo codice questo pin mi servirà per entrare nel mio account ogni volta per entrare nell'account ci sarà questa modalità da seguire quindi il sito ogni volta che vorremmo entrare nel nostro account ci manderà per una questione di sicurezza sulla nostra mail un codice un pin diverso io adesso per motivi di privacy metto il video in pausa vado a copiare il codice ed entrerò nel mio account ecco qui che sono entrato nel mio account una volta nel nostro account ci basterà andare qui in alto a destra andare su preferenze innanzitutto qua dobbiamo andare ad indicare ovviamente il nostro wallet bitcoin io per comodità ho indicato il mio wallet di coinbase perché mi viene comodo coinbase poi ci basterà andare nella voce ritira qui dobbiamo indicare la quantità ovviamente di bitcoin che vogliamo ritirare io clicco qua per ritirare il massimo e cliccare sulla voce ritirarsi il sito ovviamente mi dice che non ho raggiunto la soglia minima che è questa una volta appunto raggiunta la soglia minima che praticamente è di 10.000 satoshi potrò andare a ritirare molto molto semplice è tutto completamente gratuito questa è una possibilità appunto per guadagnare bitcoin per guadagnare satoshi ripeto con i fauchet con le ptc con questi sistemi di guadagno gratuiti non si diventa ricchi però si parla comunque di criptovalute come in questo caso e si spera appunto si aspetta che un domani queste criptovalute possano aumentare di valore possano creare un surplus così che oggi andiamo praticamente a crearci il nostro piccolo gruzzoletto mattoncino su mattoncino e poi un domani che le nostre criptovalute avranno un valore maggiore potremo avere la possibilità appunto di avere un gruzzoletto con un valore ben diverso da quello di oggi e in questo schema in questo ambito i fauchet le ptc hanno un senso trovano la loro collocazione il loro senso tra l'altro è tutto completamente gratuito non bisogna investire un centesimo non bisogna investire assolutamente nulla se non un po' del nostro tempo questo è quanto ragazzi oggi vi ho presentato bitter.io che è un'estensione per chrome che ci dà la possibilità di guadagnare in modo assolutamente gratuito una volta scaricata installata e ripeto non crea alcun problema una volta che ci siamo creati il nostro account ci dà la possibilità di guadagnare di accumulare satoshi ossia centesimi di bitcoin in modo completamente gratuito senza investire un centesimo se non un po' del nostro tempo questo è quanto ragazzi quindi in chiusura io vi rinvito a riscrivervi al canale sunshine money se siete interessati a questa modalità di guadagno online ripeto in assolutamente gratuita senza investire nulla senza investire denaro se non parte del vostro tempo io non andrò a presentare siti o situazioni ad investimento in questo mio canale quindi se siete interessati a questa modalità di guadagno online gratuita io vi invito a iscrivervi e attivare la campanellina tra l'altro sto dicendo da un po' di tempo che e se raggiungeremo su questo canale dei volumi importanti a livello di iscritti di visualizzazioni e di like vi serverò delle belle sorprese per quanti si iscriveranno e ovviamente per tutti gli iscritti al canale quindi ragazzi se e quando il sito perdonatemi il canale raggiungerà dei volumi importanti a livello di iscritti di visualizzazioni e di like io riserverò delle sorprese delle belle sorprese a tutti gli iscritti e a quanti si iscriveranno quindi questo se volete può essere un motivo in più per iscrivervi e attivare la campanellina quindi rimanere sempre sintonizzati sulle novità che riserverò per voi di volta in volta quindi e tornando anche al mio secondo canale io ho anche un secondo canale dedicato alla produzione musicale per quanti magari sono appassionati amano vogliono imparare o stanno imparando a produrre musica magari sono le prime armi stanno muovendo i primi passi o perché no sono già avviati e vogliono affinare le proprie tecniche o impararne di nuove qui potete trovare un sacco di video un sacco di tutorial appunto sul mondo della produzione musicale e se vi fa piacere se siete interessati potete anche qua iscrivervi e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui contenuti che di volta in volta andrò ad aggiungere anche in questo mio secondo canale quindi ragazzi sunshine records on recording per la produzione musicale e sunshine money per quanto riguarda il mondo dei guadagni online ripeto in modo assolutamente gratuito oggi vi ho presentato filter.io praticamente un'estensione per chrome che non crea assolutamente problemi che ci dà la possibilità di guadagnare di accumulare bitcoin o meglio centesimi di bitcoin ossia satoshi in modo assolutamente gratuito ragazzi quindi in chiusura vi ringrazio per la visualizzazione vi auguro buoni guadagni a tutti ciao e al prossimo video e al prossimo video Grazie a tutti.